Io sono Gianna Olinda Cadonao, e lavoro per la Lìa Romancia. Lì sono responsabile per la promozione della cultura. La promozione della cultura fa essere come membro delle commissioni della cultura del Centone Grigion e della città di Coera. Sperre ed in sé erdurante quals'una altura, es scrive poesie e prosa per romanzi tutti. In un secondo cuore spazio in un'indicente regionale, ci descompario da un passato pro edizione me viene purger, dai da fatta e per pacche poesie inglese e francese. È un crasciullo l'ubile, non è una discurruzione romanzi e tutti. Tutti due lingui sono parte della mia identità culturale, linguistica. Una lingua è più grande più che un metodo di comunicazione. È intermedia l'elevanza, geografica, sociale. In altri modi, l'atmosfera in cui ho cercato il materiale per le mie poesie e distorsioni. La più grande sfida in miei lavori con la provatura della cultura è il momento più bello. Guardare, leggere, tutta l'art, arte. C'è t'erore, cosa che non potessi sushnare in un progetto? Con raps? Che si con quans? Con traduzioni o lectorati? Co' è la qualità del progetto dell'art ci ben presentata? Ce vuole mosare il progetto? A ci? Che fare qualcosa? E che guardare il progetto? Che ci? 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 Che? 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 ognir percepisci come artista romanzo che non ha mai avuto delle scensioni o del progetto di teatro e romanzo? Qua ci pertocca il tema dell'essere donna, ci posso dirci come scontore un privato e del lavoro molto contro di un raro, persone che fanno remarchi discriminanti in versi donna o irracisti. In contrario, a due decenni discutiamo di questi temi, del rispetto per donne, omens, o altre sexe, di tutte le preferenze religiose, sociali o altre, o di tutte le colori della pelle. Per il momento, da un giusto che ha un boom di progetti di cultura, teatro e literatura ci tratta in questi due mondi. Per esempio, la dover della lingua o delle lingue inconecte con persone queere e di color. C'è vocabulari viena per romanzo e per tutte le sti? In mia lavoro, scho promotora da cultura e dire scho autore, viena al smut per dare un spazio, un palco e due versi di un gudas per tutte queste expresioni artistiche, della nostra realtà, della nostra vita e semis. Sei scho donna, om o altri gener, scho persona alba o da color. Grazie. 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 Grazie.